Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio, siamo ancora su Final Fantasy 7 Ever Crisis e oggi vi porto altre notizie interessanti provenienti dalla miniera quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo delle informazioni che sono provenienti dal data mining e ovviamente io oggi sono qui per riportarvele perché giustamente anche questo è il mio compito fondamentalmente di che cosa parliamo oggi? Parliamo di alcune notizie che sono già state comunque riportate in via ufficiale e altre notizie che invece sono state in un qualche modo trovate in via ufficiose innanzitutto vi comunico già che ufficialmente a partire dal giorno 7 dicembre avremo finalmente la versione Steam avremo finalmente la versione Steam che sarà disponibile ovviamente per tutti in modo gratuito perché giustamente sarà disponibile per tutti in modo gratuito per cui finalmente potremo giocare non più tramite emulatore ma o comunque tramite telefono per chi magari non ha la possibilità di giocare tramite telefono però come potete notare abbiamo già la notizia ufficiale praticamente che è stata rilasciata su Twitter proprio ieri mattina quindi versione ufficiale di Steam che sarà disponibile a partire dal 7 dicembre altre notizie invece che vedranno il gioco mutare e comunque vedranno il gioco anche ottenere dei nuovi eventi il primo ovviamente della lista sarà il nuovo Hunt quindi il nuovo evento Hunt che in questo caso avrà come protagonista niente poco di meno che la nostra amatissima Hell House quindi bisognerà vedere come struttureranno questo incontro perché ovviamente il riferimento del 7 remake ci fa conoscere la Hell House con diverse fasi fasi debole al vento, fasi debole al fuoco e fasi debole al ghiaccio quindi ci saranno diversi elementi che sicuramente potrebbero essere utilizzati quindi il fatto che Tifa sia uscita con elemento ghiaccio già potrebbe essere un buon indizio per quanto riguarda ovviamente questa schedule di debolezze del nostro avversario però ovviamente bisognerà fare riferimento anche a ciò che sarà disponibile ovviamente all'interno del gioco e quando vi dico disponibile all'interno del gioco vi dico anche l'arma free to play che Barrett otterrà all'interno di questo evento quindi ennesima arma free to play per Barrett che sarà disponibile ovviamente tramite i ticket che riusciremo a farmare durante il periodo di combattimenti contro la nostra Hell House sicuramente avremo a disposizione anche le co-op avremo a disposizione anche la X avremo a disposizione tutti quegli eventi che abbiamo visto con i precedenti quindi sia con Sephiroth che con l'Aron Giant e quindi avremo la possibilità di poterci organizzare in co-op o comunque di poterci organizzare in live per riuscire a farmare e fare anche gli stage più difficili ma la vera bomba che probabilmente tutti stavano aspettando e che tutti effettivamente volevano vedere e che si è anche intravista nella copertina che ho messo è stato il data mining di un modello personaggio il modello personaggio in questione che ovviamente ho tradotto con il nome è quello di Yuffie come potete vedere ragazzi hanno inserito praticamente un modello senza capelli ovviamente diciamo un modello standard molto basic in realtà che in questo caso però potrebbe rifarsi anche a quello di Cloud perché notate in basso a sinistra c'è il dettaglio praticamente della spallina anche se in realtà quello lì potrebbe essere il braccio di Yuffie con il guanto che praticamente lei possiede e quindi di conseguenza avere la sua icona per il caricamento perché queste sono le classiche icone che noi vediamo praticamente durante i vari caricamenti di scena che ci sono i vari personaggi presenti all'interno del gioco e ovviamente abbiamo i vari caricamenti all'interno di questi diciamo personaggi o comunque all'interno di queste sagome di caricamenti a quanto pare è stata inserita anche Yuffie per cui potremmo effettivamente esserci siamo veramente veramente vicini al rilascio del personaggio di Yuffie ed ecco anche perché ovviamente io non sto pullando su questo banner di Natale nonostante ho esplicitamente detto che Lucia sicuramente potrebbe valere la pena di essere pullata essendo comunque l'unico personaggio single target che fa danni terra e che ha comunque un vestito Arcanum che le consente di essere molto forte da questo punto di vista perché aumenta comunque già il 35% di danni terra solo grazie alla skin quindi direi veramente tanta tanta bella roba però io sto trattenendo il tutto sto trattenendo le risorse perché se effettivamente dovessero inserire Yuffie con la Hell House quindi dovessero mettere diciamo un personaggio con un evento nuovo ci sarà da ridere ci sarà da ridere perché Yuffie potrebbe effettivamente essere quel personaggio fuoco che un po' tutti stiamo aspettando perché i personaggi ghiaccio personaggio vento personaggio acqua bene o male abbiamo già avuto un'infarinatura di questi personaggi però ovviamente un personaggio con l'elemento Arcanum oltre in questo caso a Tifa e Lucia del banner di Natale manca perché c'è comunque Sefirot e Cloud che sono ghiaccio e tuono però effettivamente mancano gli altri elementi manca l'acqua manca il fuoco manca la terra quindi ci sono questi personaggi cioè la terra anzi in realtà ora c'è però dico mancano questi personaggi e quindi è giusto che finalmente possano entrare a far parte del roster Yuffie tecnicamente per logica dovrebbe essere acqua perché comunque ricordiamoci che Yuffie viene da Wutai Wutai ha come summon protettrice Leviathan quindi in teoria Yuffie dovrebbe essere il personaggio Arcanum acqua per eccellenza però da degli sviluppatori che mi mettono un evento di Halloween con nemici deboli al ghiaccio sinceramente mi aspetto un po' di tutto quindi direi che potrebbero anche inserire Yuffie con l'elemento fuoco e perché no il vestito Arcanum fuoco e lì la situazione diventerebbe molto interessante detto ciò ovviamente ancora non c'è nulla di ufficiale l'unica cosa ufficiale al momento è solo la versione Steam che non vedo l'ora di poter giocare e provare insieme a voi inoltre per tutti i nuovi giocatori che si registreranno direttamente da Steam ci saranno delle offerte speciali e ci saranno anche delle ricompense individuali per tutti coloro che scaricheranno il gioco da Steam quindi io non vedo l'ora appunto di vedere la versione Steam come è stata realizzata soprattutto di vedere anche il rapporto e anche tutto ciò che effettivamente è stato magari sistemato migliorato la grafica tutto cioè voglio vedere effettivamente cosa hanno inventato per la versione Steam non vedo l'ora detto ciò non c'è altro che al momento devo aggiungere per quanto riguarda le informazioni provenienti dalla miniera spero che il video possa esservi stato interessante fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di tutti questi update e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye